Un grande ritorno per me, non solo sulla rete di Piave, ma è a San Donà, ma un grande ritorno perché mi ritrovo proprio a San Donà di Piave, sulla rete Piave TV a parlare di un mio conterraneo con Maurizio Schettino che è qui per presentare il suo romanzo. Benvenuto Maurizio. Grazie mille Catiuscia e un saluto a tutti gli ascoltatori, ma anche coloro che seguono Piave TV web channel. Sì, tu dici ascoltatori perché lui è uno speaker radiofonico di tanti anni, per cui per lui è normale parlare di ascoltatori piuttosto che di telespettatori. Allora Maurizio, questa tua prima opera letteraria che è fatta, realizzata da uno speaker radiofonico, già sa un po' di strano, di solito uno è abituato a scrivere e con la radio invece a parlare. Raccontaci brevemente cosa ti ha portato a questo lavoro. Beh, sicuramente la predisposizione, al di là dell'esperienza decennale da un punto di vista prettamente radiofonico, però nello stesso tempo ho maturato esperienze anche in ambito sociale, essendo presidente di un'associazione che si occupa di problematiche legate ai giovani, quindi incidenti stradali, abuso di alcol, abuso di droga, temi molto forti, attuali. L'associazione si chiama Social Disco, la discoteca della prevenzione, facciamo spettacoli in giro. Allora, sulla base di questa esperienza, da questo punto di vista, in ambito prettamente associativo, avevo deciso di mettere su carta una storia che potesse in qualche modo riflettere la contemporaneità, la vita di tutti i giorni e anche le difficoltà che purtroppo i ragazzi, i giovani oggi devono vivere, scontrandosi con un mondo fatto di precariato generazionale, che è questo il tema principale del testo, da cui poi si snodano temi appunto afferenti all'abuso di alcol, droga e quant'altro. E ciò che vive il protagonista della vicenda, Marco, che da un lato vuole raggiungere il suo sogno, quello appunto di trasmettere un importante network radiofonico, e dall'altro invece accontente in qualche modo i genitori, che lo vorrebbero sistemato con il cosiddetto posto fisso. Quindi il posto sicuro fa più lavori retribuiti, al mattino impegnato in un panificio a dispensare consegne a domicilio, inserata come cameriere in un locale. Una situazione che però lo porta a un disagio psicofisico molto forte, cioè fa anche abuso di sostanze stupefacenti, si confida con gli amici, conosce una ragazza all'interno della nuova realtà radiofonica, in cui lavora come direttore artistico. Tutto questo comunque lo porta a star male, anche perché poi la ragazza è fidanzata, quindi si... Vabbè, non ci racconta tutti il libro, solamente poi uno non lo compra più. Giusto per far capire come il tema è abbastanza attuale, poi ovviamente saranno i lettori a scoprire, perché è una storia che ha un inizio molto molto semplice, tra virgolette, come racconto, come vicenda narrata, può sembrare la classica storia sentimentale, però poi ecco c'è una piega molto molto forte, e poi saranno poi i lettori a scoprirlo. Quanto di autobiografico c'è nel libro? Come dicevo c'è l'aspetto radiofonico, quindi da questo punto di vista c'è molto di autobiografico, c'è molto ecco di aspetti riguardanti il mio curriculum professionale, nel campo della comunicazione radiofonica. Posso anticipare a coloro che avranno poi il piacere, vorranno leggere il testo, qui sono anche delle chicche riguardo proprio alcuni programmi radiofonici, in particolare uno che ha contraddistinto la mia carriera agli inizi, proprio agli esordi, l'unimitante radiofonica del Salernitano, e poi anche la figura del direttore artistico che pure mi ha riguardato all'interno di una realtà che non è quella, non è il nome della radio in cui lavora Marco, il protagonista della vicenda, però effettivamente ha riguardato la mia, e poi anche aspetti del privato, del vissuto, genitoriale, rapporto genitori figli, insomma c'è anche questo nel racconto. Insomma argomenti che hanno colto l'attenzione non a caso proprio della Biblioteca Civica qui di Sandona di Piave, dove insomma i giovani ce ne sono tantissimi, tutti vediamo attenti a studiare, ecco a questi giovani che hanno magari qualche annetto meno di te, quindi sono ancora in quella fase che tu hai superato, cosa dici? Di studiare sicuramente, di cercare di raggiungere quelli che sono i propri obiettivi, quello che prova a fare Marco, il protagonista della vicenda, però mi permetto di dire, magari dandosi delle alternative, delle soluzioni, e cercando comunque anche di conoscersi, secondo me con grande umiltà, grande umiltà a capire ciò che si può fare, capire le proprie potenzialità, le proprie competenze, studiare, impegnarsi, perché poi alla fine credo che i sacrifici arrivano in qualche modo, nonostante magari periodi bui che un po' tutti possiamo vivere, inevitabilmente fa parte anche un po' del gioco della vita. Momenti bui che non si superano però con la pillolina magica. Sì, quelli non si superano, ovviamente non voglio svelare altro rispetto a questo elemento a cui fai riferimento, perché purtroppo oggi è così, molti ragazzi si gettano, magari presi dallo sconforto, dalle difficoltà lavorative e occupazionali, decidono di sfogarsi, assumendo sostanze stupefacenti, oppure all'interno di discoteche, a proposito della discoteca a cui facevo riferimento prima, in maniera smodata, senza avere delle regole, e soprattutto senza nemmeno una guida, ecco, mi permetto di dire, perché il romanzo vuole lanciare anche un monito, un messaggio agli adulti, è rivolto prevalentemente ad un target giovanile, però sicuramente anche gli adulti possono identificarsi, alcune persone grandi che hanno letto il testo, dicevo, io mi identifico nella figura della madre, del protagonista, perché effettivamente mi rendo conto che oggi è difficile la generazione moderna come la vivono i ragazzi oggi, quindi la figura dei genitori credo che deve essere fondamentale come guida rispetto a quello che poi possono essere le scelte, che i ragazzi e i propri figli fanno. Perché il titolo Gli occhi lucidi? Gli occhi lucidi è un titolo che, secondo me, può avere una doppia sfaccettatura. Da un lato, gli occhi lucidi possono essere quelli per la perdita di una persona cara, come nel caso di mio fratello che ho perso circa cinque anni fa, a cui è dedicato il testo, però ci tengo a sottolineare che la vicenda non ha nulla a che vedere con la vicenda personale che è capitata purtroppo a mio fratello, poi gli occhi lucidi possono essere anche quelli della gioia, dell'amore, gioia di incontrarsi, gioia di innamorarsi, come avviene appunto al protagonista Marco che si innamora di questa ragazza che si chiama Sara all'interno di Radio Smile, questa radio in cui lui fa il direttore artistico. Quindi il dramma, ma anche il piacere di stare insieme e di raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi. Va bene, lo ricordiamo, il libro si chiama Gli occhi lucidi per Printarte Edizioni, la presentazione è alla Biblioteca Civica di Sandona di Piave e acquistate il libro. L'assessore alla cultura del Comune di Sandona di Piave è presente alla presentazione di un libro molto particolare che è rivolto ai giovani. Certo, è un libro che abbiamo voluto all'interno della rassegna Autori e Storie, che è una rassegna che è promossa dalla Biblioteca Civica di Sandona di Piave in collaborazione con gli autori che si rendono disponibili appunto a valorizzare le loro opere e da condividerle appunto con la comunità. Questo non a caso è lo spazio di Angolibero che si trova all'interno della Biblioteca Civica che è proprio uno spazio di creatività ma soprattutto di condivisione della cultura. Quindi abbiamo accolto anche l'opportunità di presentare non solo autori locali ma anche autori che provengono da altra parte del territorio che ci fa piacere accogliere qui proprio perché la lettura diventi un'occasione di crescita e dedichiamo anche particolare attenzione in particolar modo ai romanzi come in questo caso che si rivolgono al mondo dei giovani nell'affrontare le difficoltà ma anche le gioie della vita per rendere effettivamente anche la cultura uno spazio di riflessione uno spazio per crescere attraverso le parole e la sensibilità che da questa è matura. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti